Le autostrade italiane si trovano di fronte a una nuova pagina della loro storia. Dopo un periodo difficile, complicato e con varie vicissitudini gravose, questo patrimonio infrastrutturale torna nelle mani del pubblico. È stato, infatti, raggiunto un accordo tra il consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management con Atlantia per l'acquisizione dell'88,06% del pacchetto azionario di autostrade per l'Italia S.P.A.A.A.S.P.I. Questo lo si può leggere tranquillamente nella nota ufficiale diramata dal consorzio. L'acquisizione, si legge sempre nella medesima nota, sarà fatta attraverso holding reti autostradali S.P.A.A.A.A.A., una nuova società di diritto italiano di proprietà, diretta o indiretta, di CDP Equity, 51%, Blackstone Infrastructure Partners, 24,5%, e dei fondi gestiti da Macquarie Asset Management, 24,5%. Vedremo se la nuova gestione porterà dei benefici, soprattutto tra gli utenti di queste grandi vie di comunicazione. Closing nelle prossime settimane. Ara e Atlantia hanno quindi sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto dell'88,06% di Aspi. L'acquisizione sarà, tuttavia, completata nei prossimi mesi, dopo aver soddisfatto le condizioni previste per il closing e aver ricevuto. In necessari nulla osta da parte delle autorità competenti. Gli obiettivi di investimento prefissati dal consorzio sono ascrivibili a contribuire alla realizzazione di un vasto piano di investimenti in tutta la rete autostradale di Aspi, promuovere il miglioramento della rete per migliorare la digitalizzazione e l'innovazione. Punto e birgola, implementare l'efficienza dei programmi di manutenzione dell'infrastruttura per garantire i massimi livelli di prestazioni e sicurezza. Per gli automobilisti, garantire stabilità a lungo termine nella gestione di un'infrastruttura italiana essenziale per la comunità e l'economia. Il ruolo di Aspi. Aspi, come specificato ancora nella nota, è tra i principali operatori autostradali d'Europa e ha in gestione oltre 3.000 km di autostrade in Italia, con concessioni a lungo termine. Aspi e le sue controllate sono garantie di sviluppo, manutenzione e gestione di una rete autostradale che si estende su tutto il territorio nazionale e rappresenta circa la metà del sistema autostradale soggetto a pedaggio in Italia, con circa 4 milioni di clienti al giorno. Gli eventi determinanti. A quasi tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi e a quasi un anno dall'accordo a Palazzo Chigi, la firma del contratto segna un passaggio storico con Aspi che torna dopo 22 anni nella sfera pubblica. Dopo quel terribile fatto, le autostrade a gestione Benetton hanno dovuto pagare cari gli errori. Negli ultimi 11 mesi, dopo l'intesa raggiunta a metà luglio, l'operazione ha viaggiato sulle montagne russe tra fasi di stallo e spesso a un passo dal fallimento. Sono stati necessari i mesi intensi di negoziati tra le parti per arrivare alla proposta finale arrivata sul tavolo del CDA di Atlantia, che complessivamente valuta il 100% di Aspi in 9,3 miliardi di euro.